Ciao a tutti Stumble giocatori, come state? Spero tutto bene, qua è bella pace, che mi raccontate? Avete trovato qualche skin bella su Stumble Guys oppure avete trovato qualche carta fantastica nei pacchettini di Stumble Guys? Proprio così, perché oggi non giocheremo a Stumble Guys, oggi apriremo le carte di Stumble Guys! Ragazzi, finalmente anche io ho le carte Rainbow di Stumble Guys, le nuovissime edizione limitata! Guardate che belle, non vedevo l'ora di aprirle ragazzi! Mi chiedete sempre dove trovare queste fantastiche carte, ragazzi le trovate in tutte le edicole e poi le trovate nell'e-commerce che vi lascio qua sotto il link per acquistarle! Comunque ragazzi, vi ricordo che potete anche voi prendere il raccoglitore, io sto per finire la collezione, me ne mancano ancora un po'! Dentro il raccoglitore poi c'è tutta la leggenda con tutte le skin che potete trovare! E poi solamente per voi ho ripreso anche un box da 26 bustine, proprio così, perché qua dentro ragazzi questo box contiene 20 bustine! Vi ricordo che potete trovarlo dal link qua sotto in descrizione! Ovviamente anche il raccoglitore, potete trovare tutto lì, quindi tutti quelli che mi chiedono queste domande, mi raccomando, link in descrizione! Se qua dentro ci sono 100 carte, se io non riesco a finire la collezione mi arrabbio! Iniziamo che abbiamo già perso troppo tempo! Allora, all'interno, vediamo un po', all'interno trovi 15 card più 4 limited edition Rainbow! Ok, e sono tutte così, se guardate, banana, questa qua ragazzi è la skin della banana che volevo su StumbleGuys ma non l'ho trovata! La skin della banana di diamante, la banana dorata, la banana normale e la banana, questa qui è la banana supereroe penso, non mi ricordo! La banana spaziale, ok! Ok, iniziamo dalla banana spaziale, guardate che belle ragazzi, mamma mia, mamma mia, oggi si spacchetta eh! Speriamo di trovare qualcosa di buono, mi dispiace perché questi pacchettini sono così carini da aprire! Io non vorrei rovinare il pack, però forse ci tocca eh! Ok ragazzi, iniziamo! Sono veramente curioso, cioè ma quanto sono belle queste carte di StumbleGuys addirittura? Cioè guardate, con le carte Rainbow raga, le carte Rainbow che belle oh! Che le aggiungiamo tutte al mio schedario eh! Vediamole subito, insieme, ok! Super banana leggendaria! No vabbè, ma quanto sono belle le carte Rainbow! Poi vediamo... Che cosa c'è qua? Che cos'è? È un codice scontro... Ah tutto quello... Ok, le info di che cosa si può trovare all'interno Ed ecco qua, Mr. StumbleComuneRainbow! E poi queste sono edizione limitata ragazzi eh! Guardate, edizione limitata! Poi sotto troviamo... Uuuuh, l'Ametista! La Valkyria d'Ametista! E sotto il Kanguro Boxer! Bellissime! Cioè quanto sono belle da 1 a 10 queste carte Rainbow? 11! Ok, abbiamo tre pacchettini, vediamo che carte troviamo! Io spero di trovare ragazzi le carte che mi mancano! Lo spero veramente tantissimo! RetroGuy! Non me ne ricordo perché sono tantissime eh! Ok, il pulcino di metallo... Poi il robot giapponese... Poi un'epica molto carina e sotto... Ok, la banana d'oro! Fantastico! La carta gold raga! Questa se l'avevamo già! Andiamo avanti senza perdere troppo tempo! Perché oggi sarà uno spacchettamento incredibile! Allora, mettiamole dritte così bussiamo che porta fortuna! Ok, epica! Non comune! Il robot! Un altro robot e sotto una gold! Il samurai raga! Il samurai leggendario gold! Anche questo ce l'ho già! Eh, sarà difficile finire la collezione perché ce ne sono tante eh! Però io confido in questi nuovi pacchettini eh! Poi al limite le potrei quasi scambiare! Ok, è arrivato il momento della verità! Uh, questa non so se ce l'avevo! La volpe rara! Poi la volpe epica! Poi... Mr. Stormball! Sì, non ce l'avevo! La carta numero uno! Tanta roba! Questo non ce l'avevo! Tanta roba! Poi... Il tacchino! E sotto una gold! Lo scheletro! Lo scheletro leggendario! Oh, queste rubino vogliono uscire o no? Andiamo avanti col pack verde raga! Vediamo che cosa troviamo qua dentro eh! Comunque in ogni pack ci sono delle rainbow diverse! E io avendo preso tutti i pack le avrò tutte! C'è quell'edizione limitata le avrò tutte! Golden banana! È bellissima! C'è la banana gold è una cosa fantastica! Ok raga, vediamo! Ci siamo eh! Siamo pronti! Ok! Golden banana! Io non mi sono neanche spoilerato le carte che ci sono all'interno! Quelle rainbow! Vediamo! Ok, questo è come prima! Bello! Cupido! Di rubino! Speciale! Poi abbiamo un'epica! Lo squalo! Il megalodonte raga! C'è ma quanto brilla! Non so se nel video si riesca a vedere ma brilla tantissimo eh! E infine abbiamo il pusile dorato leggendario! C'è fantastiche! Queste carte sono fantastiche! Comunque io le aggiungo tutte alla fine dello schedario! Ok! Primo pacchettino! Vediamo! Mi mancano due carte rubino! Speriamo che siano qua dentro raga eh! Speriamo che siano qua dentro! Ok! Non comune! Valkyria leggendaria! Babbo Natale epico! Il minatore comune! E sotto una gold! Mister Invisible! Che abbiamo già! Voglio sapere qua sotto nei commentini se anche voi fate le carte di Stumbleguys! Fatemelo sapere! E ditemi se avete iniziato anche voi la collezione! Se l'avete finita! Quale carta migliore avete trovato! Qual è la vostra preferita? Fatemelo sapere qua sotto! Mi raccomando! Ah non l'abbiamo chiesto! Ecco! Tutto bene? Sto bene! Sapevi che ora puoi trasformare il tuo dispositivo in modalità kids? Per farlo vai alla palestra e c'è un'interessazione! Non siamo interessati! Ecco! 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 Non siamo interessati! Non lo so! Non lo so! Io lo so! Allora! Il leone della Germania leggendario! La regina! Abbiamo il cyberpunk! Abbiamo il pirata! Ragona Rubino! Che c'è? Ce lo triplo! Il samurai! Il sensei! Speziale Rubino! Peccato! S'avevo sperato! Ultimo pacchettino del box rainbow verde! Speriamo di trovare qualcosa che si soddisfi! Speriamo raga! Speriamo! Ok! Il disco! Rara! Leggendaria! Capybara! Poi vediamo il troll! Abbiamo la non comune! Un'altra! Gold! Glowman! Leggendario! Ma sono tutte carte che ho! Ok raga! Apriamo il box giallo! Vediamo se qua dentro troveremo qualche carta! Perché per ora le sto trovando ma tutte doppie! Ok! Apriamo anche questo pacchettino! Sono bellissimi comunque! Mi piassono veramente tanto! Ok! Banana! Leggendaria! E vediamo qua dentro le carte rainbow! Se questo video mi sta facendo esaltare! Mi piacciono troppo queste carte! Ok! Banana leggendaria rainbow! Sono bellissime! Poi vediamo! Uh! Il Glowman! Anche lui! Rainbow! Leggendario! Poi abbiamo la mummia! E poi sotto! Cleopatra! Bella! Bella questa! Ok! Apriamoci i tre pack ragazzi! Comunque sono tre! Sei! Nove! Dieci! Dodici! Oggi ci apriamo! Dodici pacchettini di carte di StumbleGuys! Mica male eh! Mica male comunque sia! Non è scontata questa come cosa eh! Ok! Ci abbiamo! Epica! 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 Poi una gold! Brian! 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 Vabbè! Abbiamo capito eh! Proseguiamo il nostro unboxing! Il nostro spacchettamento! Cioè ragazzi ma quanto è bello spacchettare le carte! Quanto è bello! Abbiamo rara! Leggendaria! Non comune! Il soldato! Non so se ce l'avevo! Raga una Rubino! Raga chi è? Raga? È lui! È Cupido di Rubino! Che ho già raga! Purtroppo ce l'ho già! Non riesco a trovare le carte che mi mancano! Assurdo! C'è veramente! Me ne mancano solamente due! Per favore! Fa che siano qua! Oh mi so spoilerato qualcosa! È una Rubino! È una Rubino! Tutankamon! Italy Troll! Che forse non ho! Ok! La donna di Marzapane leggendaria! Miumer! È sotto! Ti prego! Ti prego! Ti prego! Ti prego! Chi è? No! L'ametista! Un'altra volta! Speciale! Dai con l'ultimo box! Con l'ultimo box arranzone! Speriamo di trovare qualcosa che ci soddisfi qua dentro eh! Beh! Almeno le Rainbow le abbiamo finite! La collezione delle Rainbow ce le abbiamo! Perché bisognava prendere tutti e quattro i pack per averle tutte! E noi ce le abbiamo! Ok! Vediamo subito le Rainbow! Banana di Diamante! C'è! Fantastica! Banana di Diamante! Poi raga! Vediamo chi abbiamo sotto! Super Gal! Leggendaria! Poi abbiamo! Il Leone! Leggendario! E poi sotto! Uuuu! L'Uomino di Marzapane! Leggendario! Comunque se ne sono 16 eh! Se ne sono 16! E noi le abbiamo tutte! Ultimi tre pacchetti! Portami fortuna! Per favore! Creatore di StumbleGuys! Portami fortuna! Portami fortuna! Per favore! Dopo tutto quello che ho scioppato! Un po' di fortuna eh! Ok! Abbiamo il pupazzo di neve! La strega! Il cavaliere! Il poliziotto! E di nuovo! Brian! Leggendario! Raga non ci sta andando bene! Ne stiamo trovando molte doppie eh! Però è questo il bello dello spacchettamento! Non puoi mai sapere che cosa troverai! Ok! Abbiamo lo squalo! Epico! Poi rara! Leggendaria! Rara! E gold! Christmas Future! Il fantasma del Natale futuro! Bello! Carino! Ultimo pack! Per favore! Fammi trovare qualcosa di buono! Ti prego! Ti prego qualcosa di buono eh! Ziriamo bene le carte! Bussiamo alla porta! Chi è? L'arbitro cattivo! Mamma mia! Horus! Epica! Leggendaria! Raga una rubino! Finiamo col botto proprio eh! Raga! Raga! Sensei! Si! Speciale! Che non si sa perché esulto! Perché se l'abbiamo già raga! Queste sono quelle che avevamo già! Raga lui non ce l'avevo! Lui non ce l'avevo! Tanta roba! Se l'abbiamo! Quindi manca solo una carta rubino! Top! Io spero che il video vi sia piaciuto! Fatemi sapere se volete altri spacchettamenti di carte di Istanbul Guys! Da me è tutto! Un bacione! E ci vediamo al prossimo video! Ciao! 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 Grazie a tutti.